La cantina Suentu La cantina Suentu l'abbiamo chiamata Suentu che vuol dire il vento in sardo in quanto tutte queste colline sono esposte al vento La mia famiglia è composta da mia moglie Lucia da Valeria, da Roberta e da Nicola Ognuno in famiglia ha il suo ruolo e ha le sue responsabilità Il valore aggiunto di un'impresa familiare è la passione che ci mettono dentro l'azienda Ritengo che sia un valore aggiunto che nessun manager potrebbe dare Se si viene in cantina nel periodo della vendemmia noi siamo attivi in prima persona è importante per me e per tutta la mia famiglia essere in primo piano anche in quel momento Le origini della nostra famiglia erano di agricoltori poi di commercianti e oggi ho avuto la soddisfazione di ritornare all'origine Il mio nonno aveva qualche filare di vino principalmente uve rosse e faceva un vino un po' a modo suo senza osservare più di tanto la tecnica ma solo quello che anche suo padre gli aveva insegnato Il lavoro dell'enologo è fondamentale perché è lui che ci dà delle direttive su quando tagliare le uve quando sono pronte e che poi fa tutto il lavoro di preparazione dei vini I vini Suentu sono espressione della passione per il lavoro della famiglia Piloni In tre parole mi piace riassumere quello che è l'azienda Suentu Passione per il lavoro quindi la famiglia Piloni che giorno dopo giorno sta creando una bellissima realtà vitivinicola nel territorio La tradizione, quindi vitigni tradizionali, il bovale, il vermentino principalmente è innovazione Come innovazione mi piace che tutta la squadra della Suentu possa parlare di grande vino nella bevibilità, durata del vino nel tempo nella piacevolezza e nella passione per la vigna La Sardegna è una terra antica Tant'è vero che all'interno dei nostri terreni esiste un uraghe che risale a circa 3.000 anni fa mi piace anche pensare oppure sognare che 3.000 anni fa comunque ci fossero dei vitigni e che soffiava lo stesso vento che soffia adesso Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti